Ciao Germano, non ti sento Germano? Ciao Carlo Germano, mi senti? Adesso sì, adesso sì, va bene. Allora Germano, abbiamo una bella etnosi regressiva da fare con te oggi, e quindi andiamo a vedere prima quali sono i punti che vorresti toccare con questa etnosi. Allora, vorrei vedere esattamente perché dentro di me c'è tante paure, tante intranquillità, sì, tanta paura di muoversi, di fare, di novità. Quando inizio compro qualcosa di nuovo mi viene un'ansia molto forte, molto pesante, che mi rende difficile aggiornarmi, rendere la vita bella. Questa è la cosa che più mi preoccupa. Un sogno spesso che faccio è salire su qualcosa di alto, che può essere un palo, una cascata, un palazzo, e poi non riuscire più a scendere perché il terrore mi prende talmente profondamente che mi paralizza. Come posso sognare di perdere i denti, i capelli, di non avere più il corpo, queste cose qua. Qui no, praticamente è tutto basato sulla paura, perché questo qua non mi permette di cambiare vita, di cambiare lavoro, di evolvere me stesso, di cercare nuove vie, perché ho paura sempre di sbagliare o di fallire e di non poter più tornare indietro. Va bene. D'accordo, se non c'è altro... No, vorrei lavorare su questa, mi sembra la cosa più rampante su di me. Benissimo. Allora, cominciamo pure, mettiti il comodo, cominciamo con la prima fase, che è quella induttiva. Quindi, stai comodo lì? Mmh, sto comodissimo. Quindi adesso devi solamente chiudere gli occhi ed ascoltarmi. Passeremo per una fase che dura circa dieci minuti ed è una fase in cui si rilassa il corpo e si cerca di svuotare la mente per poi cominciare. Quindi io ti accompagno in questa fase, in questi dieci minuti che cominciano ad andare e io conto da dieci a uno verso il basso come per segnare questo tempo che va via. Questi dieci minuti che passano. Dieci. Nel frattempo senti che il tuo corpo comincia a rilassarsi lentamente. Senti che il tuo corpo si rilassa e senti che il tuo corpo si appesantisce e senti che il tuo corpo si appesantisce a ogni mia parola lentamente. 9. Puoi sentire il tuo corpo appesantirsi lentamente e puoi sentire questa sensazione di pesantezza cominciare dai piedi. Cominciare dai piedi. sprofondare. 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 nel pavimento. Nel pavimento. 8. Senti questa sensazione gradevole, piacevole, di pesantezza. arrivare fino alle ginocchia lentamente e senti la parte bassa delle tue gambe sprofondare. nel pavimento. pesante. 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 profondità. lentamente. pesante. sette. adesso questa sensazione di pesantezza comincia ad arrivare fino alla il bacino riempiendo lentamente le gambe completamente e senti le tue gambe affondare pesanti giù sempre più profondità lentamente sei pesante rilassato tranquillo da questo momento qualsiasi rumore o suono di fondo qualsiasi movimento attorno a te non ti distrai ma ti rilassa di più 5 la tua schiena è pesante ogni muscolo della tua schiena si è pesante profonda lentamente si rilassa sta sprofondando lentamente 4 il tuo lente va giù sprofondo il tuo petto sprofondo lentamente 3 le spalle sono pesanti le braccia pesanti le mani pesanti le mani pesanti La testa è sante, giù. Oum. Adesso, prima di cominciare, dì, Geroen, se in questo momento la tua mente è vuota, o se stai pensando a qualcosa, è vuota completamente. E c'è lì. Adesso io, quindi, conto da uno a tre. E mentre conto, tu hai ad un ricordo, ad un momento. Conto da uno a tre. In un luogo. Uno. In relazione. Ai conti che mi hai dato. La tua mente sa quale sono. Conto da uno a tre. E tu vai lì. Un. Due. Tre. Perché sorride? Dove si... Cosa fanno mamma? Perché devo morire? Dicevo, ma figlio mio non puoi diventare grande, non tutti possono diventare grandi, bisogna anche saper accettare di morire. E sapevo che dovevo essere seppellito lì dentro. E quando mi svegliavo la mattina ero terrorizzato come un condannato a morte, non riuscivo nemmeno a guardare in faccia mia mamma. Fra picco facevo questo sogno spesso e mi uccideva questo sogno. Mi davo una paura impressionante. Osservati nel sogno e dimmi, in questo sogno, come sei restito. Descrivimi il paesaggio intorno a te. Campania è dove stanno scavando terra nuda con dei buchi quadrati, rettangolari grandissimi, profondi qualche metro, larghi decine di metri. Finitesi, non so, tre, quattro, cinque buchi, mentre scavano le ruspe, prato, campania. Io che tengo per mano mia mamma che camminiamo, che sono triste, ho una paura terribile, non capisco perché devo morire. E mia madre che cerca di tranquillizzarmi, che non è niente, succede a tutti. Quante sono le persone che stanno facendo queste buchi? Che stanno scavando? Non vedo persone, vedo le ruspe, le ruspe scavatori, molto grandi. Sono ferme? No, stanno lavorando. C'è qualcuno che le guiderà? Sì, ci sarà qualcuno, ma non lo vedo, non mi sono messo fermato. Beh, adesso dia alla mamma di accompagnarti verso uno di questi operatori, scavatori. Vai verso una ruspa. Dice che non possiamo. Perché? Perché? Chiedigli perché. Perché non sono affari tuoi. Va bene. Allora dia alla mamma di rimanere lì. Tu vai, poi torni. Quindi vai verso una ruspa. E quando sei lì, mi avvisi. Sono sotto, faccio segno all'uomo che sono qua, di aprirmi, di guardarmi. Beh, vedi di fermare la ruspa perché vuoi parlarmi. Invece cosa c'è? Descrirmi quest'uomo. Come lo vedi? È indefinito. Digli di scendere dalla ruspa e di prendere forma davanti a te. Così possiamo identificarlo. Non riesco a vedere a massimo le mani. È un vestito. Come sono le mani? Grandi, aperte. Non riesco a identificare niente. Come vestiti? È indefinito. Va bene, è indefinito. Lentamente si definirà. Chiedigli cosa sta facendo. Sto scavando, mi dice. Cosa sta scavando? Un buco. Per far cosa? Cosa serve? A mettere dentro i bambini? E perché bisogna mettere dentro i bambini? Perché così è e deve essere. Chi lo ha detto? Chi lo ha deciso? Chi decide tutto questo? Lo decide Dio? Chi è Dio? Chi è Dio? C'è colui che comanda? Bene. Adesso di a questo signore di chiamare questo Dio che comanda. Chi è questo Dio che comanda? Dice non posso. Perché non può? Perché non può? Perché lui è colui che è? Certo. Certo. Lui è colui che è. Come tu sei colui che sei. E io sono colui che sono. È ovvio. Che significa? Risposta senza senso. Il tavolo è il tavolo, chiaro. La sedia pura è la sedia. Quindi, perché non può chiamare questo Dio che comanda? Dice niente, non dice. Non dice niente. Di a tutti questi uomini che stanno su queste ruspe di scendere dalle ruspe e di mettersi davanti a te. Dimmi quanti sono. Sei? Sono sei. Bene. Metti tutti i tuomini in fila. Bene. E di loro di identificarsi prendendo forma. La loro forma. Quella che utilizzano nella loro dimensione. Tanto strani. Sono tutti uguali o sono diversi? No, diversi ma... Tantamente strani e buffi che non riesco neanche a descriverli. Sembrano dei disegni di un cartone animato. Bene. Va benissimo. Basta che tu mi dica che sono come dei cartoni animati e già mi sta bene. Tra questi sei, chi è che comanda? Quello che parlava con me. Come si chiama? Si chiama. Non so, mi viene a star, possibile? A star? Si, se ti viene a star, è a star. Capo. A star da dove viene? Da dove viene? Da lassù. Rompi i coglioni questo. No, fa il suo lavoro. Non dire fa il suo lavoro. A star da dove viene? Dalle stelle. Come si chiama la stella? Da dove viene? Come si chiama? Alfa Centauri? Possibile? Si. Tu non analizzare niente. Dimmi solo quello che ti arriva in mente. E perché viene sulla Terra, l'Alfa Centauri? Per lavorare. Per lavorare cosa? Qual è il suo lavoro? Regimentare gli umani? Significa regimentare. Cosa significa regimentare gli umani? Aiutare, selezionare, guidare. A quale fine? Ordinare. A quale scopo? Tutto ha una ragione, se ha un ordine. Se no è caos. Bene. E quest'ordine per cui lui sta lavorando, a quale scopo servirebbe? Siete in troppi e certi troppo furbi. Siete troppi e certi troppo furbi. Quindi questi troppi e questi troppo furbi cosa dovrebbero fare? Eliminati. Dovrebbero essere eliminati. Fisicamente o psicologicamente? Fisicamente e psicologicamente? O psicologicamente. O psicologicamente. Bene. E come pensa di eliminarli fisicamente? Malattie. Come quali, per esempio? Tutte le malattie o solo qualcuna in particolare? IDS ci aiuta. Cancro. IDS, cancro, poi? Varie future che non conoscete. E di quelle che conosciamo? Quali? Basta l'influenza. Molto facile. Siete deboli ormai. E stupiti. E perché siamo deboli? Perché vi teniamo deboli, vi rendiamo deboli. Come fate a tenerci deboli? Psicologia, cibo, vita, radiazione. Bene. Il cibo. Qual è il cibo che ci rende deboli? Carne. Deboli e stupidi come animali. Solo la carne? No. Tutto ciò che... Cos'altro? Additivi? Chiaro. Io credo che sono tutti i cibi e tutto quello che ci mettono dentro. I chimici. Elaborati. Certo. Elaborati. Psicologicamente come ci debolite? Tele, televisione, cinema, tempo, atmosferico. In quale altre forme cercate di eliminarsi o innebolirsi? Radiazioni solari, cambi climatici. E come fate a controllare i cambi climatici? Facile. Come? Il clima è un equilibrio, basta toccare un punto ed è un gioco di domino, di cambiamenti che voi non riuscite a evolvere abbastanza velocemente perché a volte la civiltà è statica e stupide. E come fate a smuovere questi equilibri atmosferici sulla Terra? Radiazioni cosmiche, indebolimento dell'atmosfera terrestre, cambiamento dell'asse terrestre. E secondo te, eliminando fisicamente o psicologicamente un troppo furbo, secondo te, avete veramente eliminato? Su questa Terra fisicamente facile, come spirito rimane vivo ma non è percepito da voi, quindi è eliminato. Però è percepito da voi? Siete troppo stupidi. Per è percepito da voi? Certo, non riuscite a percepire a volte il vostro corpo. E loro? Gli spiriti percepiscono a voi? Gli spiriti percepiscono a voi? Voi. Sì, lo spirito percepisce tutto ma non è in grado di intervenire se non è sentito. Bene. Queste buche che state scalando a cosa servono? Seppelliamo inconscio, conscio, non so che sia dei bambini, e qua rimarranno chiusi al buio, avranno paura, terrore di tutto. Non crederanno a niente, non riusciranno a fare niente di grande, perché saranno sempre chiusi nella paura. Profonda paura del buio, del nero, di essere seppelliti vivi, morti. La loro anima è seppellita qua. E perché li volete con paura? Perché la paura non permette di fare niente a nessuno. È la più grande arma dell'umanità. E perché i bambini? Perché bisogna prenderli da giovani, prima che si evolvono troppo. E se qualche bambino non lo prendete in tempo? Può succedere, riusciremo da adulto a deviarlo o eliminarlo. Un numero piccolo non ha un problema su tutta l'umanità, un numero grande è un grosso problema su tutta l'umanità. E perché fai vedere questa scena ogni notte, o quasi ogni notte, a Germano, a Germanito? Perché? Un Germano deve sparire da me, non deve vivere, fa paura, non è gestibile, non è controllabile. Perché è proprio Germano? Uno dei tanti. Perché è uno dei tanti e non uno dei tantissimi? Cos'ha, Germano? Un po' troppo evoluto, troppo stronzo. Per noi. Non ci fa comodo averne i coglioni. Perché? Cosa potrebbe fare? Potrebbe arrivare dove non deve, potrebbe convincere altra gente a disobbedire. Molta gente pensa che tu sia un angelo che scendi per aiutarli. Certo. Se avessero paura di me non riuscirai a influire su di loro. Perché passi per il salvatore della terra? Perché ti fai passare per tanti. La gente deve credere in me come angelo, o se crede in me come demone deve avere dei vantaggi grandi su sta terra. Allora mi segue lo stesso perché è talmente stupido che vedono solo questa vita. Chi ti segue come demone, con quale nome ti segue? Tantissimi. Con quali nomi ti fai chiamare da demone? Dipende, quello che loro vogliono, basta che mi credano. Che importanza hanno. Qual è il più usato? Astar, Mascarotte. Genio. Hai della concorrenza per il dominio della terra, per gli esseri umani? C'è qualcuno che compete con te? Sono altri interessati, ma non è concorrenza. Ce n'è per tutti, qua e da altre parti. Cos'è il cancro? Il mondo più stupido mi fa morire un uomo stupido, che si uccide da solo. Perché si uccide da solo? Cosa fa un uomo stupido per uccidersi di cancro? Si fa morire. Cosa fa per farlo? Fa impazzire la sincronia del proprio corpo, che si sviluppa abnormemente come un pazzo senza menta, finché distrugge se stesso. Come se lo procura? Inconsciamente? Basta inserirgli dentro pensieri di morte, di paura, di distruzione, di non speranza. Tutto il resto lo fa il potere che ha, che non sa di avere. Prima del cancro, cosa usai? Eravamo più spicci, pestilenze, tanto a quel tempo c'era meno selezione da fare, erano tutti sullo stesso livello. L'umanità era molto meno evoluta, più stupida, credulona. L'essere umano come potrebbe sconfiggere un cancro? Quando vuole, in un secondo. Come? Volendolo, credendoci, amandolo. Cosa è l'AIDS? Niente. Qualcosa per cui creda. Esiste un virus chiamato virus dell'AIDS? No, non c'è nessun virus. E quindi quando viene detettato un virus dell'AIDS, cosa viene detettato? Non è mai stato detto in tutte palle. Tutte cose create da gente in cui credete. in un sistema in cui vi fa vedere quel che vuole, quando vuole, come vuole. La verità la crea lui, la menzogna la crea lui. Loro mangiano, scopano, hanno soldi e sono felici di questo. Stai parlando di esseri umani? Certo. E questi esseri umani sono indipendenti o controllati? Sono controllati da noi su quello, sul resto, sulla terra, facciano ciò che vuole, ma noi non interessa. Tu comandi loro? Certo, io. E chi per me? C'è qualcuno che comanda a te? No. Chi può? Chi comandi tu? Dammi tutta la gerarchia. Da te fino all'essere umano. Sono tutti spiriti. Non hanno forma. Qualcuno ha più forma, qualcuno ha meno forma. Ma è potere pure, energia pura. Quelli che hanno forma, quale forma hanno? Per voi incomprensibili, strane, senza senso per una mente umana, perché non l'avete mai visti, se non in qualche sogno, in qualche fantasia. Non riuscireste a decifrarle con la mente logica che usate voi piccoli uomini. Quando tentiamo di codificarli, di decifrarli, quali forme c'è? Stranissimi, con diverse teste, con tentacoli, come insetti, come eretti. Perché queste entità ci appaiono con delle forme simili a quelle degli animali che vivono sulla terra? Forme similari, perché? Un po' similari, perché in fondo la fantasia è infinita, ma la biologia è sempre quella per tutto l'universo. Fisicamente. Perché ci appare un'immagine di un insetto, o di un rettile, o di qualche altro animale, e non di un altro? Perché proprio questi? L'insetto è ogni animale, ha un significato. Ogni categoria di animali ha un significato nell'universo. Qual è il significato dell'amantica religiosa? Potere, 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 bellezza. Non riesco a dirlo. Potere, bellezza. Qual è il significato di un coccodrillo? Di un coccodrillo. Direi più di un rettile, anche quello di lui non vedo più. Un rettile, qualsiasi esso sia. Un rettile sta bene. Un rettile. Un rettile ha la semplicità, la freddezza, la forza. L'innonsentimento. Un drago. Potenza, fuoco. Fuoco che tutto può distruggere. Un polipo. Un cosa? Un polipo, un polpo. Ah, un polpo. Potere essere ovunque, in qualunque maniera, senza neanche farsi vedere. Una cavalletta. Divoratrice. Centro di energia. Una formica. Una formica. Una laboriosità totale, senza, con solo istinto, senza intelligenza. Un felino. Eleganza, bellezza, sensualità, forza fisica, niente sentimento. Uno di quei piccoli umidi che noi chiamiamo grigi. Potrebbero essere grigi. Entità che non lavorano per te. Dove si trovano? Che non lavorano per te. In tutto l'universo. Perché non lavorano per te? Non posso comprendere tutto. Li conosci? Sì. Ci sfioriamo, ma non ci interessiamo. C'è qualcosa che vuoi dire? Di tua spontanea volontà. Per me, a me siete indifferenti tutti. Cosa ti interessa? Cosa vuoi prendere? Perché prendo, me lo prendo quando e come voglio, senza chiedere permesso. L'importante è che non mi diate fastidio. Cos'è che prendi? Energia. Che tipo di energia? Psichica. Sono? Molte volte collegate alla fisica. Fisica data da piuttosto basse, considerate voi, sensualità, potere di sopravvivenza. Qualche sprigionate. Solo questo? Sì, a me non è interessato da voi. Ti accontenti di solo questo? C'ho altre cose da fare in altre parti. Ah, pensavo che ti occupassi di più cose. E perché la prendi da noi, questa energia? Perché è abbondante, è facile da prendere. E perché noi la produciamo? Perché siete anime, riuscite a produrla. Tu non riesci a produrla da te? Non abbastanza. Noi ne produciamo abbastanza, per noi? Suoi potreste produrne molta di più, che non siete capaci. E tu? Non sei capace di produrne di più per te? Non nemmeno abbastanza. Ho bisogno di più potere se voglio sopravvivere. Quindi noi siamo più potenti di te? E non lo sappiamo? Meno male. Quindi siamo più potenti di te? Più no. Tutti siamo parte di tutto. Voi potrete essere molto potenti. E cosa ci manca per esserlo? La consapevolezza. Bene. E chissà? Cosa succede a chissà? Chissà? Finché posso vi terrò sotto. Poi prima o poi non ce la farò più. Cosa succede a una persona che sa? Che sa? Quando è il suo corpo fisico e quando poi esce dal suo corpo fisico. Si rende conto che è inutile avere paura. Tanto può tutto e fa parte di tutto. Cos'è quella cosa che gli esseri umani chiamano Matrix? Matrix, Matrix, Matrix. Cos'è Matrix? Cosa avete inventato un termine strano? Matrix. Controllo su tutto e su tutti. L'aiuto che gli umani danno a me. Sono molto contenti di questo. Si sentono potenti. È l'aiuto che gli umani danno a te. Sì. In quale maniera ti aiutano? Controllando. Tenendo basso il profilo psichico della gente. Come lo chiami questo Matrix? Controllo. Semplicemente controllo. Come funziona questo controllo? Raccontaci. Basta distrarre l'attenzione. Un po' di paura. Un po' di divertimento semplice semplice. Tanto la vita fisica è breve, passa veloce ed è fatta. Vi siete già trovati dall'altra parte senza aver concluso niente. Cos'è l'altra parte? Anima nascete, anima ritornerete. Dove ritorniamo? Nell'universo. Fate parte di tutto. Dipende da… Quando torniamo nell'universo, siamo sotto il tuo controllo o no? No, nessuno è sotto il controllo di nessuno. Nell'universo. Tutto si evolve, più sei in alto, più sei parte di tutto. Cosa succede quando una persona muore? Dipende, sei tanto stupida da aver tanta paura. Non è se sei evoluta per niente. Rimane chiusa in una bolla di piccola energia che è spallottata da una parte all'altra. Se invece è libera senza paura, diventa parte di tutto. Se ha paura e rimane in una piccola bolla di energia, cosa succede? Aspetta. Come un pirma. Aspetta cosa? Di liberarsi, che qualcosa cambi la sua situazione, di rendersi conto. E come cambia la sua situazione? Come può cambiare? C'è chi lo aiuta. Chi è che lo aiuta? Chi l'ha creato. Chi l'ha creato? Lo spirito primo. Chi è lo spirito primo? Colui che è che ha creato tutto. Ha creato anche te? Sì. E come lo aiuta? Facendogli capire di non avere paura. Se non apre il muro, lo prende con dolcezza, lo prende con pazienza, finché non lo scioglie. Una volta sciolto cosa succede? Torna a parte di tutto. Una volta che torna a parte di tutto, rimane sempre parte del tutto? O questa situazione si modifica, si può modificare? O cambia tutto? Tutto. C'è un'evoluzione. Secondo, il primo spirito di amore, di evoluzione, di amore, di evoluzione. Non ha spazio, non ha tempo, non c'è più senso, nessuna parola. Tutto è tutto. Solo voi credete nello spazio, non ha tempo. Ci sono persone che ritornano sulla Terra, in un altro corpo? In parte, non totalmente. Che significa in parte? Quale percentuale ritorna sulla Terra? La parte troppo animale, ma troppo estintiva. Quella che non crede, in niente, che ha bisogno di evolversi. Chi li manda sulla Terra? Qualcosa per aiutarli. Loro non saprebbero come evolversi da soli, allora l'universo li aiuta. L'universo non permette che qualcuno rimanga indietro. Chi li manda, quindi? La coscienza. Universale. L'altra parte che non ritorna sulla Terra, dove va? Aspetta. E aiuta. Tu ti occupi solo degli esseri umani sulla Terra? Io sì, mi divertono. O contro gli altri sistemi, altri pianeti. Preferisco stare sulla Terra, più divertente, più facile. Perché più divertente? Tutto è molto facile, molto catalogato, molto lineare, molto prevedibile. Chi ha deciso di dotare l'uomo di questo corpo così debole e di questa mente così stupida, se possiamo dire? No, l'uomo è nato perfetto. Sono io che l'ho distrutto. Come fa? L'uomo è debole, fragile, schizofrenico, diviso. Adesso è facilmente gestibile. Com'era prima l'uomo? Perfetto. Com'era l'uomo perfetto? Colui che sapeva e poteva tutto perché era unito con tutto, non aveva bisogno di niente perché lui era già tutto. E aveva questo corpo fisico che adesso è più bello. Molto. Che significa più bello? Che differenze ci sono tra questo e quello? Più leggero, più longevo, che passava da uno stato all'altro senza traumi. Era molto più furbo da adesso? Stupidamente ingenuo e dolce che non aveva bisogno di furvezze. Perché sapeva tutto, conosceva tutto, quindi non aveva bisogno di pensare nemmeno. Se sapeva tutto, come si è trovato poi nella condizione di uomo modificato e schiavo? Piano piano, piano piano abbiamo convinto di essere un'entità separata. Poteva farlo. Sarva è stato un piccolo dio. E piano piano, piano piano ci è riuscito. Come l'ha fatto conoscermi? Come l'ha fatto conoscermi? Difficile dirlo. Come l'ha fatto conoscermi? Basta parlarci. Parlarci però, dire cosa? Tanto perfetto, tanto bello. Perché non fai parte a te stante? Potresti andare oltre a quello che sei. Però non abbiamo detto la seconda parte, dove sarebbe finito, isolato. Sì, abbiamo convinto con l'inganno. Lui non conosceva l'inganno. Tutto ha una parte non perfetta se non è Dio. Tutto è modificabile. Tutti gli uomini sono caduti nell'inganno o altri no? Non tutti, ma abbiamo selezionato in modo che le nuove generazioni lo fossero tutte. E quelli che non ci sono caduti? Dove sono adesso? Nell'universo. Fanno parte di tutto. Adesso... Adesso... Chi sei? Vuoi sapere proprio tutto? Sì, dimmi tu qualcos'altro. No, sono stanco. Hai ragione. Adesso, quindi, esci dal corpo di Germano. Germano, dimmi da quale parte del tuo corpo sta uscendo. Sì, va a sinistra. Ma non esce, rimane con me. No, devi uscire, digli di uscire. Adesso devi uscire, andate, non è mai via, non ti voglio più. Hai sentito, no? Tu sei potente, ma non lo sai. Però adesso lo sai. Digli di uscire e lui esce. Non può fare a me. E mi dici da quale parte del tuo corpo sta uscendo e che forma sta prendendo all'uscire. Sta tirando sulla sinistra, un po' in alto. Non mi sembra, vai fuori. Sta tirando sulla sinistra. Bene, devi uscire, senza procurarti nessun danno, nessun fastidio, nessun dolore. Devi uscire completamente. E mi racconti quello che succede. Se ne va a mic. No? Bene. Allora facciamo così. Adesso guardati, Germano, dentro e osserva dov'è tutta quella paura che loro ti hanno inserito, hanno fatto in modo che tu producessi da bambino e che ti sei portato dietro fino adesso. Osserva dov'è questa paura nel tuo corpo. Il cuore e il stomaco. Come la vedi? Scarpire cosa sia. Una massa, ma non scarpire di cosa. Una massa in forme? Sì. Che colore? Rossa. Rossa, rossa scura. A che frequenza sta vibrando? Stomaco più un nodo. Stomaco un nodo. A che frequenza vibra questa energia? In che senso? Non scarpire la domanda. Toccala e dimmi che numero e che unità di misura ti arriva alla mente. Fredda. Finca se è fredda. Dammi il numero che ti arriva. Che frequenza? Due e tre. Due e tre. Tra due e tre. Sì, la scala non ha importanza. Il valore insieme ha importanza. Si sceglie una scala e si danno dei valori. Due e tre. Bene. Adesso tu puoi prendere questa energia e poi o eliminarla o modificarla. A te la scelta. Cosa vuoi fare? Modifichiamo. Bene. Puoi aumentare la frequenza. Adesso chiedi ad Astar o Astar qual è il suo rango di frequenza? Il minimo o il massimo? Da zero a sei? Da zero a sei. Poi ho fatto un po' caldo. Benissimo. Adesso tu, Germano, che hai molta più energia di Astar, infatti lui la prende da te, ha bisogno di prenderla anche da te. Hai la possibilità di aumentare questa frequenza molto più in alto del sei. Quindi adesso la prendi, la tocchi con le tue mani e alzi la sua frequenza e osserva questi numeri che si alzano. Due, tre, quattro, oltre il sei. E mi dici, mentre lo fai, a quale frequenza sta cambiando, verso quale frequenza sta evolvendo e mi dici cosa senti e cosa vedi. Vibra, vibra. Vido un po' di nausea. È normale, fa niente. È di passaggio. Vai, 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 vai. Il colore diventa come un termometro che si alza. 18, 20, 22 diventa rosso come colore. Giallo, arancione, rosso. Alza, 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 alza. Non vedo più numeri. Alza, 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 alza. Vai in alto. Come lo senti. Fermati un attimo, fermati un attimo. Come ti senti adesso? È come avessi qualcosa dentro. Però come lo senti? Che emozione ti dà? Come ti dici? Gonfio. Quasi nausea. Quasi avessi qualcosa dentro. Dimmi adesso a che frequenza è questa energia? 16, 15. 16, bene. Adesso di, alla star, di uscire dal tuo corpo. Mi guarda, come dire, vaffanculo. Dov'è? Dov'è? È vicino, lì dietro. Ma è uscito dal tuo corpo? Non vedo dietro sta massa. Non so, mi sembra dentro. È dentro la massa? Dietro. Che mi guarda di... Un mezzo nascosto, ma non nascosto. Cioè, mi guarda con gli... Alza di più la frequenza. Alza ancora di più. Finché non esce dal tuo corpo. Questa energia aumenta la sua frequenza. Aumenta. 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 Ma la spalla. La spalla mi fa male. Finché non esce dal tuo corpo, tu aumenti la frequenza, però lentamente. Non velocemente. Lentamente. La elevi. Finché lui non esce dal corpo. E mi dici cosa succede. Sto schiacciando fra il mio corpo e la massa. Di a Stati di non essere così stupido a farsi... Ha bisogno di aiuto per uscire dal tuo corpo? Bisogna io. Sì. Beh, tiralo fuori. Dagli la mano e tiralo fuori dal tuo corpo. La tua mano energetica. Con la sua. E lo tiri fuori dal tuo corpo. Non vuole. Non si fida. E c'ha paura, poverino. Diglielo. Che è stupido avere paura. Non crede di essere stupido come gli esseri umani che hanno paura? Sta pensando. Sta pensando? Che forse è ragione. Avrebbe bisogno di pensare se sa tutto. Non ce lo ricordo. Nessuno è perfetto. Bene. Quindi, digli di uscire dal tuo corpo. E di non essere stupido. Perché è troppa energia. Lo potrebbe bruciare. Non è perfetto. Ok. È uscito. Dimmi dove è adesso. Aspetta, ho i brividi in tuo corpo. Bene. Tu raccontami quello che sente e quello che vedi. È importante. Io vedo, ho brividi, brividi, brividi. Ho una scia gialla. Lui non lo vedo più. Sparito. Dimmi quello che senti. Un po' leggero. Un po' di nausea. Ho fatto male a spalla. Adesso questa bolla di energia la prendi e la tiri fuori dal tuo corpo. Meglio non caricarlo troppo per adesso. La butti fuori via, nell'infinito. Ecco, così. Fatto? Come ti senti? Strano. Adesso osserva nel tuo corpo. Poi osserva se ci sono oggetti strani o esseri strani. Entra per la parte già ti dico. Entra per la parte superiore della tua testa. Entra nel tuo cranio. Dimmi se c'è qualcosa lì che non ti appartiene e che non è tuo. Che non è organico. Sembra una ragnatela sopra il cervello, possibile? Sì, provate. A cosa serviva questa rete? A chiudere, a tenere lì. Ma non far uscire troppo. Bene. Vai giù, vai nel volto, nella zona del volto, collo, e dimmi cosa vedi lì, se vedi qualcosa che non è tuo. una cosina piccola sulla cervicale, sulla spina dorsale, un po' a sinistra, dietro, attaccata alla spina dorsale. Adesso fa male, se ci guarda. A cosa serviva questa? Controllo. Puncia sui nervi. Sì, bene. Adesso togliamo tutto, non ti preoccupare. Scendi giù per la spina dorsale, percorri tutta la schiena, polmoni e cuore, non entrare nella parte del ventre per adesso, dimmi cosa c'è in questa zona. Schiena, polmoni, cuore, spina dorsale. Ma il cuore è un po' piccolo, un po' scuro, non so perché. Adesso vediamo. Il pomone sinistro è un po' più chiuso del destro. Spina dorsale, mi sembra normale. Adesso vai nella zona del ventre, tra le tue interiore, e dimmi se vedi qualcosa che non è organico, che non è tuo. Nell'interiore, nello stomaco sì, c'è un nodo, qualcosa sempre, più piccolo di prima. intestino, stomaco, fegato, pancreas, tutte, tutti quegli organi lì. Lo stomaco, se un po' di senso di nausea, è una specie di nodo. Il resto mi sembra abbastanza libero. Adesso controlla la parte genitale, la prostata e la vescica. niente, controlla gli arti, le gambe e le braccia. la基inale, che era un po' di senso di tienne, più piccolo di pose, che non è un po' di senso di indice, in questo caso. niente bene adesso aspettiamo un attimo che si ristabilisca la connessione che si è abbassata un attimo mi senti bene? bene adesso chiama il responsabile anzi no adesso chiama Ashtar e digli di rimuovere questa ragnatella sulla tua testa e questo dispositivo sulla tua spina dorsale questo dispositivo di controllo e tutto il resto che sta connesso in questo sistema chiamalo e mi dici cosa succede cosa vedi perché dovrei anche io te lo dico e lo spieghiamo perché sembrava che avesse possedimento di tutto il conoscimento la conoscenza però poi si perde in una richiesta così stupida bene glielo spieghiamo come lui ha spiegato a noi e le cose glielo spieghiamo a noi a lui perché questi dispositivi sono nella tua sfera energetica e nella tua sfera energetica si muove tutto solamente con la volontà di questa sfera energetica cioè con la tua Germano e quando sembra che invece altri manipolano è perché è stato raggirato con l'inganno ma è sempre la volontà del soggetto che muove il tutto quindi adesso tu che ne sei consapevole adesso hai visto hai conosciuto questo dispositivo e non lo vuoi e dimmi se non lo vuoi dimmi se non mi sbaglio non lo voglio non è mio gli dici di rimuovere tutto tu rimuovi qualsiasi autorizzazione estrapolatati con l'inganno adesso adesso faccia un po' furbo faccia finta di farlo ma non è convinto è possibile? vabbè ma tanto se non lo fa lui lo fa qualcun altro puoi farlo anche tu stesso però noi gli stiamo dando la possibilità di rimediare ad una possibile reazione uguale e contraria contro di lui la rete sta cambiando forma bene che forma? che forma aveva prima e quale sta prendendo adesso? prima sembrava una ragnatela di un ragno adesso sembra un riduttore di ferro una cosa che va così e che ha 100 passi energia va bene si digli di rimuovere tutto se lo sta togliendo se ne avassi 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 se ne è andato come ti senti? sto cercando il collo togliamo si scioglie si scioglie c'era dei filamenti interni lungo la spina d'orsale arriva fino all'anca si scioglie c'è ancora un po' di nodo nello stomaco togliere tutto è uscito dalla bocca il nodo il stomaco è libero tutto libero ecco come ti senti? un po' stanco come ti senti? un po' stanco fisicamente a parte la staggezza mi sembra bene spiritualmente come ti senti? normale però adesso non potrei dire il corpo si sta risvegliando piano piano si nota che forma ha Ashtar? come lo vedi? come lo visualizzi? come si lascia visualizzare? non riesco a descrivere che cazzo è? non capisco digli di prendere la forma più abituale sembra di vedere una spiga di grano turco che sotto è nera non capisco la solità aspettiamo che si stabilizzi la connessione che si è abbassata un attimo ok mi senti bene? mi sento perfetto adesso di Ashtar di aprirsi un portale dimensionale da andare via sparire puoi richiuderlo non è mai più non è mai più da me è andato l'ho chiuso sparito come vedi la stanza dove sei? controllarla energeticamente controlla il tuo corpo energeticamente dimmi come le orecchie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti come lo vedi? come lo vedi? di che colore lo vedi? il corpo? si da bianco a giallo aranciore però sono colori tuoi no? si sono miei d'accordo ti senti pronto per rientrare? è presente l'alimento terrestre bene adesso conto germano da 1-5 prima però controlla facciamo una prova scusa mi dimentica torna a quel sogno il sogno iniziale e vediamo adesso come lo vedi sei lì con tua madre cosa vedi? non c'è più una ruspa ma c'è un buco nero profondissimo non c'è più nessuna ruspa? no c'è un buco nero profondissimo profondissimissimo hai paura? indifferente bene è importante tua madre cosa ti dice? andiamo? andiamo dove? fai un giro bene vai a vedere cosa c'è lì dove c'è il buco vai a vedere cosa c'è cosa c'è dentro? c'è l'infinito possiamo vedere un gioco da questo infinito da questo buco da questo infinito collegati con quella rete di informazioni universale da questo buco collegati come hai detto scusa? a questo buco è collegato l'infinito hai detto no? sì cioè vai verso l'infinito per così dirla nell'infinito c'è tutto se tu ti connetti con questo infinito sei anche connesso con tutte le informazioni tutta la conoscenza di cui normalmente siamo fatti ma non lo sappiamo come ti senti? tranquilla e che dove c'erano prima le ruspe che scavavano nella tua paura adesso c'è il canale verso l'infinito quel canale che se vuoi ti riporta al tutto bene Germano diciamo che ottimo risultato bene adesso rientriamo adesso conto da 1 a 5 tu ti stacchi da qualsiasi ricordo sogno entità persona se solo con la mia voce per adesso fino al momento dell'apertura degli occhi adesso io conto da 1 a 5 e mentre conto tu rientri al tempo presente da dove ti sto parlando rientri nel tuo corpo nella tua mente nella dimensione terrestre 1 comincia a reincorporarti comincia a rientrare nel tuo corpo comincia a prendere a sentire il tuo corpo e comincia a sentire il tuo corpo leggero alleggerirsi si sta alleggerendo non è più pesante come prima adesso senti questa sensazione di leggerezza cominciare dai piedi ed espandersi fino alle ginocchia e fino alle anche tutte le gambe sono leggere e ti sembra che stanno volando sembra che stiano volando e la sensazione è meravigliosa stupenda di benessere di pace di tranquillità e senti questa sensazione questa leggerezza che sale su per la schiena per la spina dorsale e ritorna giù per il petto l'addome e ancora su per le spalle si espande dentro le braccia fino alle mani e poi ancora il collo sulla testa il volto adesso sei completamente avvolto della tua energia una sensazione di benessere tranquillità serenità per tutto il corpo 3 continua a sentire questa energia che fluisce nel tuo corpo questa sensazione di pace di tranquillità questa assenza di paura riempiti di questa nuova vibrazione 4 5 apri gli occhi buenos dias buonas tardes come ti senti? come avessi fatto un viaggio ho avuto in mente una cosa adesso che ci stanno manipolando attraverso l'informazione praticamente leggendo certe cose entrano dentro di noi è possibile? beh questo è ovvio non è mica una vita anche leggendo certe cose praticamente leggendo tu fai tu un'informazione se ci credi ci hai creduto quindi già fai parte di quel sistema che è composto anche da queste informazioni certo anche se sono più per il non non informarsi informarsi è discernere le informazioni però per questo ci vuole acquisire un certo livello di consapevolezza altrimenti è più dannosa che altro è più dannoso sì va bene tu avevi mai fatto più non si regressiva? no io ho tentato di contattare qui a Genova della gente ma ho trovato degli incompetenti impressionanti non sono riuscito a trovare nessuno che tutto fatto da solo sono un'autodidatta purtroppo dico al 100% perché non riesco a trovare nessuno con cui io uso molto i test color trial color di malanga su gente che sto aiutando perché è il metodo più facile non è manco un vero indietro ipnotico ottengo dei risultati molto buoni con molta gente molto molto belli veramente poi mi lascia molto stanco però riesco ad aiutare della gente specialmente nella mia cerchia a fare dei bei salti qualitativi mi piace quindi a parte questo tu non hai mai fatto ipnosi regressiva fino adesso? no ma pensavo che sì sono l'autoipnosi quello su di me io ho tanti anni che lavoro però dico mai mai stato aiutato purtroppo da nessuno non ho trovato nessuno che mi aiuti ma comunque ti sei rivolto a degli operatori di ipnosi quindi sei stato indotto in ipnosi no 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 sono stato da loro a Genova facevano delle cose veramente ridicole perdevano delle ore e ore a insegnarmi meditazione che io ho sempre fatto quindi poi non sono più andato perché secondo me erano dei didattici da scuola ma non servivano a niente capisci? va bene d'accordo va bene cosa ricordi di quello che hai detto? più o meno giusto i passi principali? no ma ricordo tutto ero consapevole non ho mai perso conoscenza almeno penso non aver mai perso conoscenza magari del corpo qualche attimo però il resto mi ricordo tutto adesso è presto bisogna metabolizzare la sessione giusto giusto consiglio a colpo d'occhio come ti senti? adesso esci da questa porta da questa camera come ti senti? beh mi sento la testa leggera come fosse più leggera del solito non riabituarmi come dovessi riabituarmi al corpo in certe cose va bene fammi sapere poi nei prossimi giorni o nelle prossime settimane come va poi ti scrivo c'è qualcosa che vuoi dire prima di chiudere? no ti ringrazio interessantissimo ti scriverò nei prossimi periodi anche perché fra 15 giorni io parto per l'Oriente sto 5 mesi in Oriente e poi ti so dire come procedono le cose bene quindi permetti la divulgazione di questo video? certo vai tranquillo ah una cosa volevo chiederti ma tu sapevi qualcosa di Ashtar? o Ashtar? sì perché mi è capitato in Thailandia dici anni fa un uomo italiano ha dato dei disegni molto belli ma incomprensibili che avevo fatto vedere ad un esorcista e c'era scritto la firma era sempre Ashtar però tu cosa sapevi o cosa sai di questo Ashtar? l'esorcista era considerato un demonio tutto lì però tu conosci hai qualche altra informazione sul lusso di lui? non so se qualcuno dice Ashtar tu cosa pensi che opinioni hai di lui? a prescindere dall'ipnosi che abbiamo fatto oggi ma avevo letto una volta che ha un nome ricorrente sia nell'ipnosi che negli esorcismi basta non so però non conosci niente di lui a parte questo? no non so assolutamente neanche se è un nome che hanno inventato che è vero non lo so ok hai mai sentito qualche canalizzazione di filmata Ashtar? canale ah no no niente farò semplicemente sapere questo come ti ho visto molto sicuro nelle informazioni che rilasciai e allora pensavo che magari ci fosse un po' di suggestione da parte tua o meglio un recupero di informazioni nella tua mente e volevo capire fin dove arrivava ecco capire che tipo di contaminazione dell'informazione c'era che tasso di contaminazione quello è possibile perché sono uno che legge molto quindi anche se non era diretto su Ashtar era possibile su altre cose no però se va bene grazie grazie a te carissimo a presto allora guardavo il filmato su youtube aspetta adesso chiudo la registrazione però rimane un attimo in linea per delle cose burocratiche ok